Quattro squadre guidano a punteggio pieno il girone sud della Serie 2 dopo i risultati maturati nella seconda giornata di andata, ma se tre sono le naturali favorite per le prime posizioni, una è certamente la grande sorpresa delle battute iniziali del torneo. Secondo successo consecutivo per l'Acqua Chiara, che vince 12-9 la battaglia contro la rarinante Sarechi, una sfida agonisticamente vibrante sviluppatasi sui binari del sostanziale equilibrio, si risolve nel finale quando i padroni di casa cambiano passo e confezionano il 3-0 decisivo con le firme di Nazzaro, De Florio e Cielo. Nel derby partenopeo il circolo canottieri Napoli supera 11-6 l'Ischia Marine Club, risolvendo il match grazie al prepotente break di 6-1 piazzato nella seconda parte del confronto. Prezioso successo esterno per la Lazio Noto, che viola Terrasini regolando 11-8 la Waterpolo Palermo. I capitolini rimontano rapidamente lo 0-2 iniziale, assumono il comando dell'operazione a inizio parziale e scavano il solco decisivo nella frazione finale con l'1-2 Dominici Corban, prima del sigillo conclusivo apposto da Costanzo. Rispetta fino in fondo il pronostico della vigilia la check-up Rarinante Salerno, che alla vitale supera un circolo nautico sbarazzino che nei primi due tempi gioca con grande personalità, misurandosi alla pari con i più quotati rivali. Il 7 in calottina bianca aumenta i giri del motore con il trascorrere dei minuti, fa valere la maggiore esperienza e chiude i conti trascinato da un monumentale pica, autore di 6 reti, imponendosi per 18-9. Riscatta il netto capo subito all'esordio Lancio Waterpolis, che, tra le mura amiche, ha la meglio sulla neopromossa Giorgini Ottica Mure Antichi. 12-8 il risultato finale, grazie ad una prova iniziata con una partenza brillante e continuata con una progressione che non lascia scampo ai siciliani. Narciso e Dilocco sono i top scorer di giornata con tre reti. Prima gioia per il centro nuoto latina, che sul neutro di Avezzano infligge il secondo dispiacere ai Lions, che cedono 11-9 con i pontini. A decidere le sorti del confronto, due strappi, lo 0-3 con cui il 7 in calottina scura prende in mano l'inerzia della contesa nel terzo periodo, e l'1-2 finale, grazie a cui Serta e Caponero chiudono i conti. Non basta il partenope, la prova dello scatenato mancino dell'ese, autore di Quattro Rete.